Siamo ad inizio di questo nuovo anno 2021 e vediamo un attimo con questi giochi di aperture e chiusure ma anche con l'arrivo dei saldi in Campania come rispondono le aziende e lo facciamo come sempre col presidente dell'ICOM che aderisce ad ICAST dell'Isola Dischia Marco Laraspata. Buongiorno Marco. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora iniziato quest'anno? L'anno non è iniziato praticamente, commercialmente non è iniziato ancora. Oggi forse abbiamo visto un primo spiraglio di luce ma penso che da lunedì in poi vedremo un po' di luce sicuramente perché sia le disposizioni nazionali che quelle regionali probabilmente non andranno in contrasto o non avremo inasprimenti, quindi ritorneremo in zona gialla. Oggi siamo in zona gialla e anche domani invece sabato e domenica ritorneremo arancioni. Probabilmente il governo vorrà fare un arancione tutti i fine settimana, poi dipende anche dai dati che pervengono a livello sanitario. Quindi praticamente dobbiamo auspicare in una zona gialla ristretta, modificata così come si era preannunciata, che comunque tenga presente le direttive, le prescrizioni ma che consenta un minimo di riapertura per i negozi ma anche per i ristoranti e i bar. Ma sì, effettivamente già tornare a una seminormalità con le aperture fino alle 18 consentirebbe a tutte le attività di creare quel minimo indispensabile per sopportare i costi in effetti, quindi dare anche un respiro morale a tutte le partite IVA. Io la chiamerei una zona giallo-blu a questo punto, facendoci una risata e quindi torno sul discorso che comunque queste semi aperture servono a ben poco. Sarebbe forse meglio far aprire anche pochi giorni nel settimana completamente e poi diversamente chiudere nei giorni che reputano pericolosi. Ecco però, giustamente, dare il via ai saldi in Campania dall'11 gennaio non avrebbe senso se non ci fossero gli esercizi aperti? Qua entri in una polemica abbastanza vasta che io mi sono fatto anche carico, nel senso che abbiamo avuto una serie di notizie fake per le quali citavano come primo giorno di saldi il quattro, tenendo presente che comunque erano consentite le attività promozionali. il problema è questo qua, che i saldi oggi sono qualche cosa secondo me anacronisticamente per me sono andati, nel senso che già gli esercenti fanno sconti del 50, 60, 70%, scrivono promozione e quindi bypassano questa cosa dei saldi. Questa cosa dei saldi secondo me è rimasta ancora nella mente perversa di alcuni attori che abbiamo nel governo, perché questa regge è stata anche aggiornata se non era a maggio del 2020, ma secondo me stanno un po' al di fuori del mondo, anche perché secondo me dovrebbero trovare delle soluzioni diverse dal punto di vista della gestione delle attività promozionali, perché dovrebbero fare come si fa anche nel settore alimentare, cioè individuare dei mesi, individuare una numerica sia di attività che di sconto promozionale in modo da avere un quadro lineare tutto l'anno in base al quale poi tutti quanti si possono regolare, individuando un limite massimo di sottocosti, un limite massimo di attività promozionale, un limite massimo di sconto e via dicendo. Poi chiaramente sentendo tutte le categorie che partecipano a queste vendite, probabilmente oggi abolire i saldi sarebbe la migliore soluzione, anche perché noi in effetti dovremmo partire l'11, abbiamo perso un giorno il 4, che per quanto ci riguarda il 4 poteva essere un giorno importante, perché si rimaneva aperti, si poteva incassare qualcosa, invece non ci hanno consentito di fare questo, quindi secondo me è un errore, è un errore perché oggi incassare anche 100 euro fa la differenza. L'anno 4 perché poteva essere propedeutico per qualche acquisto per l'epifania, insomma? Ma sì, assolutamente sì, è un giorno in più di vendita, soprattutto pre-befana, pre-infiania, quindi secondo me è stato un grosso errore commercialmente. Vabbè, ma questo è il segnale che chi sta lì e non ascolta le associazioni di categoria prima di prendere decisioni, andava fatta subito questa apertura ai saldi, anche se però voglio dire il problema non sussiste, perché ripeto, molti l'hanno fatti e basta, perché poi quando lo Stato chiede e chiama di pagare tutte le cose, se non ci stanno i soldi, che si fa? E quindi c'è un'irragionevole tendenza ormai a non rispettare più quello che ci viene detto, perché anche se non è giusto, però voglio dire ma qua come dobbiamo fare, qua se non tiriamo i soldi per andare a mangiare, la gente se ne frega delle regole. Sulla stessa scia si è mosso in queste ore anche il presidente della notte dell'ICAST napoletana, cioè proprio sulla scia di, come dire, giudicare in maniera non certo positiva questo ricorso ai saldi dopo l'11, insomma. Anche dal punto di vista dei ristoratori non credo abbiano colto queste novità in maniera positiva. Ma quali novità? Scusami a me, non ho capito la domanda. No, dicevo, anche della notte si è espresso sui saldi in maniera non certo ottimistica. Vabbè sì, noi ragioniamo all'interno di un gruppo, quindi questo che ha detto Antonino della notte è quello che poi abbiamo evidenziato nel gruppo, tutti d'accordo che praticamente bisogna fare una modifica alla legge vigente, quindi noi siamo sicuramente propensi a discutere questa proposta di modifica che però è una legge nazionale, quindi non è una legge, viene indicato regionalmente, ma comunque la legge è nazionale. Senti, tu che hai un po' il polso dei colleghi dell'Isola di Schia, qual è la sensazione e il commento generale rispetto a questa cosa dei saldi dal lunedì? A me il commento generale è che parecchi si sono fatti una risata, dice che dobbiamo fare i saldi dall'undici in poi, già sono partiti prima, nel senso che hanno fatto queste attività promozionali e sono partiti prima, questo è quello che sta succedendo, ma lo si vede nei negozi dappertutto, anche se poi voglio dire, non è che ci sta tutta questa forza di spendere da parte dei clienti, perché non ci dimentichiamo che attualmente questa crisi ha allargato la forbice tra i ricchi che rimangono sempre ricchi e la borghesia che si sta tra virgolette impoverendo, quindi c'è questo problema di base che la classe media ha meno entrate e quindi può fare meno compere, definiamole così, quindi c'è questa riflessione da fare anche dal punto di vista economico. Una cosa che ti volevo aggiungere è che nell'ambito di un qualsiasi ragionamento dei saldi, quindi di attività promozionali, sotto costo e via dicendo, bisognerebbe imporre anche ai siti e-commerce, quelli più importanti, imporre anche a loro delle regole, perché mi sembra anche ingiusto che praticamente un esercente il 4 non poteva fare, o d'oggi non può fare i saldi, però se tu digiti e vai su un e-commerce tipo Zalando, Amazon e via discorrendo, ma gli stessi siti e-commerce delle aziende produttrici di prodotti applicano sconti che vanno praticamente come se fossero saldi, quindi voglio dire ci sono le regole per i negozi fisici, ma non ci sono le regole per l'e-commerce e qua andrebbe riformato tutto il settore, anche perché non ci dimentichiamo che sul territorio e non solo a Ischia, ma in tutta Italia si sta praticamente verificando una desertificazione degli esercizi, quindi si vedono molto più rispetto a prima negozi che espongono il cartello fittasi o vendesi, negozi vuoti e quindi strade importanti in tutta Italia si ritrovano con i negozi vuoti e sfitti o da vendere, quindi questo è un segnale importante che bisogna cogliere sia a livello regionale che a livello nazionale. Due cose Marco, innanzitutto la prospettiva che ci abbiamo davanti rispetto a queste notizie che sono la realtà di fatto di quello che viviamo quotidianamente anche sul nostro territorio, quindi che cosa si può prevedere di qui ai mesi in avanti, indipendentemente dalla situazione dei saldi. L'altra cosa è a proposito dello spendi a Ischia, la campagna che avevate lanciato, com'è andata? Ragionevolmente bene, nel senso che abbiamo riscontrato un effetto positivo anche dal punto di vista psicologico, perché le persone si sono rese conto che far circolare i soldi all'interno della nostra economia da un beneficio indiretto a tutti quanti, quindi noi prosegueremo sull'onda di questa campagna che abbiamo iniziato a novembre dell'anno scorso e quindi compatibilmente con capacità finanziarie terremo presente anche di poterla ampliare e quindi di creare delle opportunità poi anche da poter girare a chi va a comprare. Abbiamo visto, e lo dicevi l'altra volta, come anche i commercianti ischitani a Bortortogollo si sono aperti al mondo dell'e-commerce, no? Si sono inventati pagine, offerte, giusto per far qualcosa nei mesi in cui sono stati costretti a tenere le serrande abbassate? Sì, le crisi servono anche a far fare cose che probabilmente prima non erano necessarie oppure non erano forse nella mentalità degli imprenditori che avevano una visione diversa del commercio. Attualmente quasi tutti si sono riversati sul mondo dei social, quindi Instagram, molti sono attivi su Instagram, chi aveva il sito e-commerce l'ha modificato e ampliato, chi non l'aveva l'ha creato e quindi ragionevolmente tutti sono presenti e fanno e spingono i loro prodotti su questi canali. Vorrei aggiungere una cosa che prima ho dimenticato sulla questione dei saldi, è improponibile secondo noi e secondo un po' tutti che i saldi vengono detti qualche giorno prima o addirittura vengono comunicati un giorno prima o qualche ora prima, come tutte le cose che vengono comunicate con una frazione temporale limitatissima, perché immagina un negozio di abbigliamento per esempio che deve riallestire la vetrina, rifare la cartellonistica per i saldi, rimettere in moto anche il sito e-commerce con l'aggiornamento dei prezzi e dei capi da esporre, la stessa cosa su Instagram e quindi voglio dire c'è un lavoro dietro che presumibilmente abbia bisogno di un preavviso almeno di 4 giorni, anche perché poi non ci rimentichiamo che le aziende essendo chiuse hanno anche i dipendenti o in cassa integrazione o licenziati, quindi c'è anche dalla parte amministrativa da concludere e da ridefinire, quindi c'è una serie di cose di inconvenience che non è che qua ogni azienda tiene il settore amministrativo, il capo del personale, come le grandi aziende, qua le aziende sono piccole aziende che lo stesso proprietario probabilmente si metta a fare tre cose contemporaneamente e questo fa parte della piccola e media impresa italiana, quindi probabilmente e sicuramente abbiamo bisogno di certezze temporali con un arco che vada almeno per 4 giorni precedenti al qualsiasi tipo di decisione. Marco e sul punto di vista del turismo, che cosa si dice? Alberghi, ristoranti, cosa si sente in giro? La venuta di Pasqua che quest'anno cade prima, abbiamo una Pasqua anticipata, mi senti a me? Scusami, dicevo il 4 aprile, meno male che viene prima, aggiungo, così fa meno danni rispetto a una Pasqua che verrebbe dopo, tutto il settore del turismo è in attesa di questo ampliamento a livello europeo anche della vaccinazione e quindi delle future prenotazioni, c'è già qualcosa che si muove, sicuramente qualcuno oserà ad aprile a aprire la struttura a metà marzo, laddove ci siano le prenotazioni, però sono convinto che anche se il vaccino è un obbligatorio, penso che per ovviare al fatto che la gente si possa spostare faranno un obbligo per la vaccinazione, la vaccinazione obbligatoria per spostarsi sia da regione a regione secondo me che da nazione a nazione. Io ho letto il calendario delle vaccinazioni che secondo me è un calendario molto troppo lento e anche secondo me sbagliato perché tra poco apriranno anche le scuole, ho visto che gli insegnanti sono stati calendarizzati se non erro a luglio o agosto o qualcosa del genere, la vaccinazione secondo me andava fatta per far ripartire il turismo e il commercio più velocemente, andava fatta con l'esercito nelle scuole, le scuole erano chiuse, si facevano le lettere, si facevano i giorni e si chiamava tutta la popolazione a tappeto, tanto voglio dire non è che qua la situazione può essere peggiore, quindi voglio dire vaccinare tutti anche in modo obbligatorio forse è la migliore soluzione. Quindi Marco rispetto alla situazione coronavirus di questi giorni di inizio anno, non è nostra competenza per carità, però siamo attenti osservatori, io so che tu osservi, ascolti un po' tutte le posizioni, che idea ti sei fatto, a che punto siamo e secondo te quali prospettive, ecco vaccino permettendo, possiamo prevederci? Io penso che le prospettive sono ottimistiche, nel senso che peggio del 2020 che è un anno bisestile, non lo vedo io personalmente, probabilmente lavoreremo più mesi rispetto all'anno scorso, se partiamo in ritardo e partiamo a metà aprile per noi isolani, ripeto per noi isolani è mezzo danno, perché normalmente le attività incominciano con partenze che vanno da metà aprile, metà maggio, dipende poi dal tipo di attività, tra balneari e attività turistiche, ti posso garantire che per esempio sul lato dei B&B ci sono molte, molte prenotazioni, quindi quest'anno penso che sia un anno migliore del 2020, non sarà un anno proprio esageratissimo, la meteorologia poi ci dovrà dare una mano, penso che sia un anno di transizione, un anno in cui dovremo riuscire a marginalizzare i nostri 6 mesi e dovremo essere anche bravi con una pianificazione fatta a livello sovracomunale a tentare di fare in questo momento l'allungamento della stagione turistica che ci potrebbe servire per arrivare veramente fino a gennaio, compreso l'epifania e quindi tentare di fare quella cosa che da anni stiamo cercando, che noi tentiamo di fare, che tentiamo di far sensibilizzare le amministrazioni comunali e che oggi sarebbe un momento importante di entrata economica. Ecco, mi hai quasi anticipato l'ultima domanda, voi come associazione di categoria che cosa farete in questo periodo? In questo periodo stiamo verificando la possibilità di poter ripetere le nostre care attività che abbiamo svolto sul territorio con Orgo in festa, Casa Micciola in festa e la fattibilità di fare rischio in festa in un format diverso se ci danno la possibilità e poi stiamo interlocuendo anche col comune di Barano per tentare anche là di animare un po' la piazza di Barano o eventualmente fare una cosa itinerante facendo una settimana un posto del comune di Barano, un'altra settimana un'altro posto, tentando insomma di… questo Covid permettendo chiaramente e questa secondo me è la principale cosa da fare, cioè di creare aggregazione laddove si può fare e quindi far scendere la gente in mezzo alla strada perché penso che la voglia di uscire e la voglia di vedersi, la voglia di incontrarsi e di salutarsi adesso si è amplificata notevolmente. Presidente Laraspata, ti ringrazio come sempre per aver trascorso un po' del tuo tempo in nostra compagnia e ci sentiamo di qui a poco proprio per verificare ecco come evolveranno le cose dai saldi in poi insomma. Va bene, grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori e buon lavoro. Buon lavoro anche a te, ciao Marco.